Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui oggi parleremo esclusivamente di tutti gli ultimi rumor, delle ultime conferme, delle ultime indiscrezioni che riguardano gli schermi dei prossimi tre iPhone in uscita a settembre, rispettivamente iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R che è come al solito quello che riserva qualche dettaglio in più. Partiamo subito dopo la nostra sigla. E allora sì, iniziamo subito a bomba perché questa puntata è molto importante dato che si parla di schermi e lo schermo, lo so, è uno degli aspetti più importanti per voi in uno smartphone, lo è anche per me. In questi mesi ci sono stati diversi rumor sugli schermi dei prossimi iPhone perché prima di tutto c'è stata un'indicazione precisa da una fonte molto affidabile che sostiene che Apple sta cercando, prima o poi, di rendere completamente OLED, tutta OLED, la sua famiglia di iPhone. Questo vorrebbe dire che iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R avranno tutti e tre uno schermo OLED. Non è tuttavia però chiaro se questa line up completamente OLED sia fattibile per quest'anno a causa dei costi dei pannelli OLED, a causa della mole di prodotti, della mole di ordini che Apple dovrebbe fare proprio per garantirsi una fornitura ottimale, soprattutto ad inizio anno e al momento del lancio dei nuovi dispositivi e che quindi magari potrebbe spingere l'azienda a ritardare di un anno la line up completamente OLED. Questo vorrebbe dire che anche quest'anno, come lo scorso anno, ci si potrebbe ritrovare dinanzi alla medesima configurazione appunto dell'anno precedente, ossia iPhone XR 2, iPhone 11R che avrà uno schermo LCD, iPhone 11 che avrà uno schermo OLED e iPhone 11 Max che anche lui chiaramente avrà uno schermo OLED. Personalmente credo che questa sia l'opzione veramente più probabile perché appunto sarebbe molto più semplice per Apple mantenere non soltanto le stesse diagonali di schermo che appunto dovrebbero restare uguali, quindi 5.8 pollici sull'iPhone 11, 6.1 pollici sull'iPhone 11R o XR 2 e poi 6.5 pollici sull'iPhone 11 Max ma sarebbe anche logico mantenere la stessa tecnologia, il che vorrebbe dire poter riutilizzare gli stessi schermi visti nel 2018 anche nel 2019 con tutti i rischi che ne derivano però soprattutto l'utente che magari si aspettava qualcosa in più e che potrebbe valutare l'upgrade da un pannello all'altro chiaramente ritrovandosi davanti lo stesso schermo forse avrebbe una ragione in meno per comprare uno dei nuovi iPhone però è tutto da vedere io credo in ogni caso che gli schermi saranno gli stessi identici che abbiamo visto sugli iPhone dello scorso anno anche se però se andiamo a vedere un po' nel dettaglio qualcosina potrebbe cambiare dato che Apple intanto non si rivolgerà esclusivamente ad LG ma anche a Samsung quest'anno in particolare Samsung avrebbe garantito una tecnologia di produzione dello schermo che potrebbe andare a ridurre ulteriormente lo spessore del pannello questa tecnologia chiaramente tornerà utile ad Apple per rendere un po' più sottile il dispositivo ma come abbiamo detto nella puntata della settimana scorsa in realtà i nuovi iPhone potrebbero essere un po' più spessi questo quindi mi fa pensare che ci saranno magari delle modifiche interne che non riguarderanno lo schermo mi viene da pensare nella migliore delle ipotesi a una batteria più grande però di questo ne parleremo sicuramente in un altro video ma concentrandoci sullo schermo un'altra caratteristica interessante che è stata rumoreggiata nelle scorse settimane negli scorsi mesi è senza dubbio la probabile riduzione delle cornici di cui vi ho parlato già la settimana scorsa ma ancora di più del notch infatti si è parlato di un notch che potrebbe diventare leggermente più piccolo però ragazzi leggermente non aspettatevi un notch a goccia non aspettatevi un notch neanche come quello del Mate 20 Pro forse parliamo di un notch che avrà generalmente le dimensioni degli iPhone attuali ma magari sarà soltanto un attimino più ritagliato perché purtroppo per il Face ID c'è bisogno degli stessi sensori che attualmente Apple non è riuscita a mettere in una configurazione un po' più compatta quei sensori devono stare lì in quel modo per consentire l'utilizzo del Face ID che ad oggi è la tecnologia di sblocco facciale 3D che è più affidabile, più veloce in circolazione quindi chiaramente Apple non vuole rinunciare a questo vantaggio che ha sulla concorrenza e il prezzo da pagare e avere comunque un notch un po' più grande seppur quest'anno appunto potrebbe essere leggermente meno visibile ma ripeto leggermente, proprio quasi che non si vede la differenza ma in realtà c'è e dato che parliamo di sensori di sblocco se ne era pure parlato però alla fine non si è più detto nulla quindi non credo assolutamente che questo schermo sia l'OLED degli iPhone 11 sia l'LCD dell'iPhone 11R alloggeranno un sensore di impronte si era parlato di un ritorno del Touch ID, un Touch ID 3.0 che potesse essere integrato sotto lo schermo non escludo che Apple ci stia lavorando però sicuramente, quasi sicuramente non lo vedremo negli iPhone del 2019 e negli iPhone del 2019 pensate un po' potrebbe sparire un'altra funzione una funzione che però come abbiamo visto è stata già abbondantemente rimpiazzata non solo su iPhone XR ma anche su iOS 13 avrete già capito sicuramente di cosa sto parlando sto parlando del 3D Touch una funzione che è stata introdotta pensate un po' con l'iPhone 6S moltissimi, sono sicuro moltissimi di voi non sanno neanche dell'esistenza di questa funzione magari chi ci segue da più tempo gli utenti un po' più esperti chiaramente sì però la gente comune la gente comune ignora profondamente l'esistenza del 3D Touch molto spesso sono io che quando mi incontro con una persona che magari ha un iPhone 7, un iPhone 8, un iPhone X gli dico ma lo sai che se premi forte c'è questa funzione qui e loro restano puntualmente sbigottiti resterà invece sicuramente come Force Touch su Mac, sul trackpad oppure anche sull'Apple Watch ma sui dispositivi iOS e iPad chiaramente scomparirà o meglio resterà su quei dispositivi che hanno già il 3D Touch che potranno continuare ad utilizzarlo per eseguire le varie scorciatoie ma parallelamente il 3D Touch sui nuovi iPhone e anche sui vecchi iPhone che non ce l'hanno verrà rimpiazzato dal Press Touch di iPhone XR che abbiamo già rincontrato in iOS 13 in modo molto più esteso infatti diciamo che ad esempio oggi su un iPhone X su un iPhone XS che ha il 3D Touch voi con iOS 13 potete sia fare una determinata azione richiamare una certa scorciatoia con il 3D Touch quindi con la pressione forte sullo schermo ma anche con la gesture opposta quindi con il Press Touch tenendo leggermente premuto in quel punto funzionano entrambe le cose questo fa davvero pensare che sui prossimi iPhone una delle due opzioni verrà meno ed essendo quella più vecchia proprio il 3D Touch e il Press Touch è una cosa nuova di iOS 13 è molto 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 probabile che sui prossimi iPhone non ci sia il rilevamento della pressione sullo schermo anche in questo caso minor spessore magari a favore di altre caratteristiche ad esempio la batteria bene ragazzi sullo schermo dei prossimi iPhone era questo ciò che avevo da dirvi in realtà non tantissimo forse ci sono più passi indietro che in avanti ma per una valida ragione sicuramente fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto quale nuovo iPhone vorrete acquistare in base alle caratteristiche dello schermo c'è solo da capire una cosa se lo schermo LCD di iPhone XR avrà sempre la stessa risoluzione o se salirà almeno al full HD lo scopriremo a settembre noi ci rivediamo in ogni caso settimana prossima con un nuovo video approfondimento sui prossimi iPhone restate sintonizzati se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com grazie a tutti Grazie a tutti